Ehi la ciurma! Io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures No, siamo su Mindtest oggi, siamo su Mindtest oggi E ammetto che sì, mi mancherà Spore Galactic Adventures Anche perché era bellissimo da pronunciare Spore Galactic Adventures Mindtest è molto più breve, cioè dici Mindtest, Mindtest, Mazzetest, Mindtest Allora, nello scorso episodio sono andato a concludere poi off camera Tutto quello che riguarda qua il pavimento e l'illuminazione superiore Qua ho messo degli slab in modo da fare un'alternanza come per il pavimento Di chiaro-scuro, 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 chiaro-scuro E qua è chiaro, penombra, ombra Perché ci sono delle torce messe qua e qua Con gli slab e fanno questo... Questo pattern, diciamo, quadrettato Che non sta male, a me piace, è molto carino E quindi direi che per ora la Galleria degli Spetteri può essere anche conclusa La Galleria d'Arte Che poi ho chiamato Galleria degli Spetteri nel titolo Per il motivo per cui chiamo i titoli così Che se qualcuno è stato molto attento può aver intuito Carpi... Carpisa... No, no, non sono pagato da Carpisa, magari Se Carpisa volesse darmi dei soldi, ben volentieri Quello che volevo fare è... A parte un bel sentinino che porta qua alla... Galleria Che però andrebbe a... Entrare un po' in conflitto con quello che è la questione dei fiori Vorrei andare a mettere anche delle vele staccionate in questa zona Visto che adesso abbiamo tutte queste fence Fence gate, fence... Che ti fensano Mettere delle belle fence in questa zona qua Magari delle fence di Aspen Tree Non sarebbe male mettere delle fence di Aspen Tree Con i fence gate, quelli bellini, bellini Allora andiamo a fare... Fence... Allora cerchiamo fence Perché non mi ricordo come si fanno gli altri tipi di fence Aspen fence, ok E il fence gate è così, ok Quindi sarebbe 1, 2, 3, 4 1, 2 per una fence di Aspen Perché tra l'altro costano un sacco, credio C'ho 4 pezzi di legno per 4 fence Proviamole un attimo da questa zona qua, va? Prima vorrei metterle tipo a distanza così Mi piacciono tanto queste così chiare di Aspen Sì, mi piacciono davvero un bot Voglio provare anche un attimo come... Apparirebbe il fence gate Di Aspen Perché è Pine? Oddio, le fate di Pino? Oh sì, volevo fare di Aspen Anche di Pino sono carine Ok, basta E questa è una dell'aggiunta appunto della nuova mod Voglio vedere anche quello che riguarda Il... come si attaccano i vari blocchi Se io mettessi un blocco qua Quella si aggancia Ottimo Ed è un... Blocco di Pino Questo anche Bellissimo E... Questo anche Però se metto la pietra Forse è un over Se metto la cobblestone No Infatti Infatti Funziona tutto come dovrebbe funzionare Ottima cosa Mi piace Voglio però provare a fare le fence di Aspen A sto giro Visto che È molto carino l'Aspen Come colorazione di base Vorrei provare un attimo Come stanno le fence di Aspen Forse sono molto più chiare Si uniscono con... Sì? Sono molto bianche Molto bianche Forse il pine è più... Ma non lo so eh Questo mi dà qualcosa di rurale Tipo campo di grano Questo mi dà un po' più di orticello Effettivamente Maggio che ci siamo Andiamo a provarlo con tutti i vari tipi di legno No? Così verifichiamo anche un po' le features Di questa nuova... Versione di Minecraft Tra l'altro Potrei effettivamente Togliere il rabarbo Dalla in fondo E metterlo all'inizio Visto che i funghi Non servono più Visto che quindi Ci avanza spazio Andiamo... Ma lo facciamo un'altra volta Va? Uso la corsa Perché Non volevo fare tutto il giro E... No avevo perduto la cesta giusta Scusate Allora Qua abbiamo della caccia Wood Questo Però non l'ho di jungle Forse Non abbiamo il legno della giungla Dovrò andare a farmarne un attimo adesso Per... Wow Che bello Mi inizia a piacere tutta questa parte boschiva In cui abbiamo tutti i legni Tranne che quelli che servono No No Tranne che quelli di pino Allora L'hawk ce l'abbiamo Poi Sono caduto Sono caduto Come un pivello Ah Puoi salire qua sopra Ok Ok Mi sa che dobbiamo Sopralevarci di Qualche blocco Perché Questi alberi sono abbastanza Complicati Da raccogliere Spero che quelli caschino Spero che caschino E non rimangano la sospesi per aria Si cascano Ottimo Almeno quello che è scato Quindi Si sta facendo notte Mentre siamo sull'albero Oddio Ho dimenticato Per caso Del legno Qua intorno Non vorrei che poi scendo Sì Ok Despawnano Despawnano Cascano giù Quegli affari Il cacao Ecco Non so come me Mi viene a dire Il cocco Oh Ah così potremo Anche verificare Se per caso Sostituisce L'affare Oppure no Non voglio St'affare Se sostituisce La dirt Oppure no Dalla nuova versione Dovrebbe essere fixato Perché l'avevano fixato Già nelle versioni Non stabili Devo andare a dormire In fretta Perché è troppo buio E di notte Non si vede Un fico secco di niente Perché youtube Annerisce ancora di più Quindi Brutta storia Brutta storia Ok Buongiorno Ma un po' di Potevamo mettere il sapling Non abbiamo raccolto sapling Possiamo subito mettere il sapling Perché come legno 29 Dovrebbe bastare Vogliamo fare solo una prova In fondo Non è che Non ho mai verificato Effettivamente Se anche su Mindtest Saltellare Va Più Che non Camminare Ma secondo me no O bisognerebbe fare un Forse si Ma mi viene mal di mare Lol Mettiamo un attimo Allora Le altre in paragone Allora Aspen tree L'abbiamo provato Pine tree L'abbiamo provato Ci manca Caccia Pine No me ne bastano due No me ne bastano due A caccia ce l'ho E qua Me ne bastano due Allora Queste dovrebbero restare quelle standard Con texture simile a come erano prima Ma ah si Ne ho ancora di Ok Aspetta Questo fa male diventare stecchetti Che tanto adesso ci servono Questi sono jungle wood Molto scure Molto dark Potrebbe essere molto bello Per una cosa Sull'oscuro Signor oscuro No Su Non lo so Però Con della pietra un po' scura Tipo della stone Ci si può fare qualcosa di interessante Secondo me Cosa mi manca La caccia Proviamo un po' adesso Tutta sta roba Togliamo qua Allora Andiamo a aprire con lock Secondo me È rimasta abbastanza simile Come era prima Sì infatti È più carina Nel senso che la texture È Un po' fatta meglio Mi sembra Però secondo me Si notano molto Queste Stresciature In legno più scuro Mentre qua invece Quelle strisce Si notano molto meno Andiamo adesso Con La caccia Molto bella Anche la caccia Non voglio distruggere Il fiorellino Spostiamolo qua Molto bella Anche la caccia Anche se non la vedrei Tanto bene per l'orto Né questa Né questa Questa mi sa Un po' di Zona Cioè mi sembra Di legno un po' Più vecchio Più logoro Non so come spiegare Ma Tipo un Non un cantiere Un Un orto Un po' vecchio Un po' più abbandonato Un po' con dell'erbaccia Questo ha uno stile Davvero potente Ha uno stile Davvero potente Secondo me però Una zona un pochettino Più Scicchettosa Non lo so Magari con un bel contrasto Tipo una villa Tutta bianca Tipo di Di marmo Non so se c'è il marmo Ma comunque Di una pietra chiara Con intorno Il giardino Recintato Con questa recinzione Di legno massiccio Scuro Proprio tipo Ebano Mi piace Mi piace tantissimo La fence Con il jungle tree Wood E' E' bellissimo Forse è quella Che mi piace di più Ma non ci sta per niente Bene Con Con questo orticello qua Con questo orticello qua Se dovessi scegliere Per questo orticello Da mettere Una fence Credo che Sceglierei questa Dopotutto Credo di sì 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 Ah ecco Questa qua La vedrei bene Ecco per Per dividere La zona di un query Dove c'è un query Se dovessimo mettere un query Più là nella serie Pro E succederà Credo che La userei come recinzione Circostante Vabbè fatemi sapere Anche voi Cosa ne pensate Nei commenti Vorrei sperimentare Un paio di altre cose Adesso Già che ci sono E una E' quella L'aggiunta Della possibilità Di trasformare La cobblestone In mossy stone Qua c'è poca acqua Però Dovrei Cercare Un posto Dove c'è un pochettino Più d'acqua Potrei metterlo qua Scavando un pochettino Più in giù Allora Scaviamo un po' di più Poi dopo Andremo a sostituire Un'altra volta Quello che è il discorso Nooo Non ne volevo messi Tutti e due là A parte che adesso Tanto quello Me li rimetterà Tutti là Volete vedere Credo che la moda Non sia cambiata Da quel punto di vista No invece Me li lasciati là Ottimo Tecnicamente Da quanto ho capito Lasciandolo qui Dovrebbe diventare Mossy stone E andremo a vederlo Prima di spostare Il rabarbaro Ora vorrei vedere Un attimo I tipi di Muretto che ci sono Ah no Ce ne sono solo tre Che sono i cobblestone I desert cobblestone E i mossy cobblestone Mossy cobblestone Non credo che ne abbia Non vorrei dire una cavolata Ma non credo che ne abbiamo Qua I mossy cobblestone Infatti non ne abbiamo Però di desert cobblestone Si Aspetta Com'è che si craftano? L'ho appena visto Con sei pezzetti Me ne dà? Sono abbastanza cari E comunque i muriccioli E via discorrendo Sei Ma ne ho solo cinque Ma potrei provare Un attimo Con questa Intanto Poi quando avremo Anche L'altra Andrei magari Potrebbe essere Una bella idea Fare una farm Di mossy stone Poi magari Non ci serve Ma Se per caso servisse Ce l'abbiamo Allora iniziamo a fare Muretti di questo tipo Una casa abbandonata Può essere un bel progetto Una casa abbandonata Effettivamente Da riprendere in futuro In cui usare La mossy stone Per fare Del Muretto Muschioso Usare Delle fence Di quelle di Oak Che mi danno Questa impressione Un po' di Abbandono E Della mossy stone Alternata con Della Mi piace E' un'idea Potrebbe essere Molto interessante Ditemi cosa ne pensate I commenti Ma a me ispira Andiamo un po' I muretti Se lo metto qua Vicino A questo Si attacca Si Si attacca Se lo metto vicino La sandstone No Non la considero Abbastanza stone Probabilmente Se lo metto vicino La cobblestone Si Si connette E se ci metto Vicino Della dirt Probabilmente no Ma neanche del legno Vabbè Ve l'ho detto Proviamo Dai No Si è da studiare C'è nel senso Carino Che connetta Con tutti I blocchi Del suo stesso tipo Certe volte Può essere Un po' limitante Nel senso Che potrebbe Questa la butto Perché tanto Ne siamo pieni Potrebbe Implicare Che Tu debba Essere costretto A usare Un certo tipo Di design Piuttosto Con altro Perché altrimenti La fence Non connette Ed è brutta Quando non si connette Adesso Se hai bisogno Che sia Tipo una balaustra Ma è Staccata Non rimane Molto bella Detto questo Cosa Innanzitutto Da quanto sto registrando Perché Usando OBS Adesso Perché ho avuto Alcuni Casini Connection Non vedo L'overlay Su schermo In cui mi dice Da quanto sto registrando Devo sempre stare attento Sennò Succede come col vlog Che Viene infinito Tra l'altro Credo che sia già uscito Il vlog Nel frattempo Spero Mi auguro Cos'è che volevo fare Di altro Ah volevo Pensare Un attimo A una specie di Piazzetta Allora Qua vorrei fare un camminamento Per arrivare fino a A quella zona Un discorso simile A quello che avevamo Nella scorsa stagione Nella scorsa stagione Avevo Del Delle Plance di legno Che erano Di lato A Delle Non mi ricordo Non mi ricordo Se era cobblestone O se era Stonewall Stonebrick No era cobblestone A quanto Mi ricordo Che starebbe anche meglio Là con il discorso Di Della casa Io più la vedo Quella casa Meno mi convince Ha un design davvero Molto strano Quindi direi che possiamo Fare un piazzaletto qua In cui Fare Diciamo un po' Un'anticamera Ma non è un'anticamera Diciamo una piazza Ecco Una piccola piazzetta Davanti alla galleria d'arte Mettere uno spiazzo Un pochettino più largo Dove finisce la strada Vediamo anche Quanto spazio abbiamo Qua davanti Non tantissimo Nel senso che No Non è una piazza grande Dove possiamo Mettereci magari Una fontana O un'opera Grande Ma Più in là Potremmo anche Pensare a un design Per un Per una piazza Ovviamente Come sempre Ditemi Cosa Ne pensate Voi Altri Potrei fare una cosa Un po' ovale Effettivamente Qua come piazza Per completare Qua Togli questo A parte che Quello potrebbe starci bene Se ci metto Tipo Un fiorellino Vedete Prendiamo un fiorellino viola Che ce n'è abbastanza E lo mettiamo là Secondo me Ci sta Benissimo Qui stacca un po' Cioè nel senso Tipo una piccola Ivoletta In quell'incavo Tra le due Sì Bellino dai Bellino E Punto Potrei farla Leggermente Ovale Tipo Andare A farla Un po' così Non volevo Questa erbaccia Ma vabbè E un po' Così Allo stesso modo Di qua Poi va a restringersi Di nuovo Andiamo nel letto Che è meglio Buongiorno LOL E E poi va a restringersi Appunto Di nuovo Qua St'erba diventa Davvero Troppo Infestante Dopo un po' Fortuna che la davanti Caso ai fiori Altrimenti St'erba Sarebbe davvero Una seccatura Infinita Allora Allora Se potrei usare La palla Toglierai tutto Molto più In fretta Ho preso Dell'altra erba Porca miseria Ma non dà tantissimo L'idea di ovale Sapete Forse devo metterci Un'altro Coso qua Ma poi verrebbe Forse un po' Non era questo Quello che intendevo fare Porca miseria Porca Usopal Vabbè Così potrebbe Ancora starci Che dite Ci può stare Sì Dobbè starci Ma ancora meglio Sarebbe Se fosse da due Questo Facciamo così Che secondo me Viene meglio Perché uno solo Sembra una cosa Un po' Puntita Spigolosa Vorrei farla Più dolce Più curva È vero che così Si allunga Un po' Di più Ma Si mi piace Mi piace Decisamente Vorrei metterci Magari ecco Dei fiorellini Intorno No Niente fiorellini Mettiamo Il legno Quello che Vorrei usare Per costeggiare La strada E E E buon Sì 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 Così mi piace Abbastanza Mi soddisfa Delle Delle E adesso Abbiamo un sacco Di legno Potrei anche Non usare Le oak planks Effettivamente E usare Qualcos'altro Qui abbiamo Usato Il pino No Direi di no Perché ce l'abbiamo Già sulla casa La caccia No Perché è un po' Troppo Tosto L'aspen O l'oq L'aspen E' più facile Da farmare E' vero Ora è già stato usato Qua Non lo so Non lo so Devo pensarci Ma forse Sono più propenso Per l'aspen Forse Più che l'oq Perché l'oq E' davvero più difficile Da farmare Ma direi che Potete farmelo sapere Nei commenti Anche perché Ho registrato Già d'abbastanza E quindi Ci sentiamo Scrivete Assolutamente Nei commenti Cosa ne pensate Di tutte queste cose Di Fans Dei muretti Della pietra E andiamo a vedere Intanto se Per caso Questa No Non è successo niente Ancora Ma vabbè Magari lo vedremo Nei prossimi episodi E appunto Fatemelo sapere Ci vediamo Nel prossimo episodio Sabato prossimo Sempre Qui su Mindtest Buona giornata a tutti Ciao